Fine dell'astinenza da gol e appuntamento con la vittoria ritrovato per il Bitonto. Primo Ugaso la panchina nero-verde per il duo modesto Santoruvo e ultimo posto che diventa momentaneamente solo un lontano ricordo. La copertina di giornata se la prende un membro della vecchia guardia, Quelloris Palazzo, capace di disegnare una parabola sopraffina, utile ad espugnare il temibile campo della Palmese. Parte dalla panchina Chacon, nel Bitonto, dentro stasi per dar maggiore ampiezza all'attacco contro l'offensivo 3-4-3 Campano, di Palazzo e Tedesco le altre due mali in attacco, complice l'indisponibilità di Figliolia. Nella Palmese Pietro Pinto ritrova solo per la panchina la freccia per l'uso a destra, Cercaro tenuto al suo posto e Puntoriere il cliente più ostico là davanti. Nero Soneri è tuttavia Silvestro il più ispirato, rientra da sinistra e scalda i guantoni di Diamè, più pericoloso quando chiude il triangolo con Fusco, bravo l'estremo difensore ospite in uscita. Si iscrive alla partita anche Galdian, tanta libertà ma poca sostanza. Timido ma insidioso quando attacca il Bitonto, la portata di Muscatiello chiama Moccia al superintervento in corner, sliding doors della partita al 41esimo, Palazzo con cura maniacale posiziona la sfera e supera Moccia con una parabola imprendibile. Vantaggio Bitonto, digiuno da gol terminato per i Nero Verdi e per il Capitano, al primo gol del suo campionato. Al rientro dagli spogliatoi anche la chance per il doppio gancio il Bitonto. Clemente furbo nel recupero, Palazzo con un colpo da Fusca non trova impreparato Moccia. Di sofferenza pura il resto della partita. Silvestro prova a imitare Palazzo ma la sua punizione accarezza soltanto l'incrocio. Da mani nei capelli l'occasione nel finale per la Palmese. Palazzo generoso in difesa ma maldesso nel tocco favorisce l'entrato per uso, murato alla grandissima D'Adiamì. Una parata salva il risultato che vale il successo per il Bitonto. Blitz esterno contro una diretta concorrente ora scavalcata anche in classifica. Nero Verdi che viaggiano a braccetto con il Gravino in zona play-out. Murgiani prossimi avversari di Palazzo e compagni, domenica 10 dicembre al Comunale di Bitetto.